Guardate che popò di posto per questa recensione di oggi. Siamo nella sala di posa di Just Wow, grazie al buon Matteo che poi tirerò dentro durante questa fantastica recensione perché in realtà è tutto merito suo e anche dell'amico Francesco Ferrara che ci permette di fare un test approfondito su questo nuovo prodotto qui. Un cannone, è un cannone, è gigantesco. Sapete di cosa stiamo parlando? Se non conoscete questo prodotto qui sotto trovate già il link in descrizione per curiosare maggiormente ma se non avete voglia di leggere vi racconto io di che cosa si tratta. È un obiettivo da 24 mm macro quindi che ci permette di andare a fare foto e video molto molto ravvicinate quanto ve lo dirò tra pochissimo con un'apertura f14 e abbiamo la grandissima fortuna di avere anche la versione cinema quindi quella con le ghiere che ci permettono di collegare i follow focus. Il giocattolino ha una lunghezza di 40 cm. Ed una distanza di messa a fuoco di soli 2 cm. Minimi ovviamente quindi dai 2 cm possiamo allontanarci ma arriviamo fino a 2 cm per fare delle foto e dei video impressionanti. Ma dov'è che abbiamo deciso di utilizzare questo prodotto? Abbiamo deciso di utilizzarlo per uno spot test che non so se si potrà far vedere in questo video perché è ancora top secret ma magari qualche spezzone ve lo mostro che ci ha permesso di creare dei B-roll veramente incredibili e differenti dalle classiche riprese che vediamo quotidianamente. In questo caso un'inquadratura ottenuta con questo tipo di obiettivo è veramente innovativa. F14. Molto buio. Sì, molto molto buio. Occorre una luce della Madonna per utilizzare questo obiettivo ma qui davanti hanno implementato questi LED che permettono di aiutare l'immagine a rimanere più luminosa si sacrificano un bel po' gli ISO. Io adesso la sto utilizzando con la mia Alfa 6500 anche se però avrei tanto voluto utilizzare magari una Alfa 7 III o una Alfa 7 R4 così vi metto una pulce nell'orecchio oggi non ce la farò mai a fare questa recensione ma abbiamo, sempre grazie a Matteo, la possibilità anche di testare l'Alfa 7 R4 che sarà nelle prossime recensioni se vedo che questo tipo di prodotti vi inizia a piacere perché effettivamente non sono abituato a portare sul canale questo tipo di prodotti però se vi piace magari un bel pollicione in su per questa recensione e magari qualche bel commento che mi faccia capire che questo tipo di prodotti vi piace sul canale. Parlavamo dei LED sulla punta dell'obiettivo ma tutta questa parte di obiettivo qua è anche impermeabile cosa molto molto interessante perché nel momento in cui dovremo andare a fare dei video o delle foto anche sotto il pelo dell'acqua o comunque in parte subacque potremo andare a riprendere con questo obiettivo macro inquadrature inusuali sì, inusuali è la parola che si sposa in maniera migliore per questo tipo di riprese porca miseria, che strano che è fare il video con questo sfondo qua non sono abituato solitamente le ottiche macro sono dai 60 ai 100, 120 mm questo è veramente particolare essendo 24 perché ci dà delle soddisfazioni notevoli soprattutto sulla quantità di immagini che riusciamo ad inserire all'interno del quadro che credo essere uno dei punti di forza che più mi ha fatto innamorare di questo obiettivo non così tanto economico come vi dicevo prima l'agua permette di mettere a fuoco e di avvicinarsi fino a 2 cm dai soggetti con un incredibile dettaglio dei particolari e delle texture che andiamo a riprendere quindi è ottimale anche per l'utilizzo magari di riprese di vestiti e appunto di tessuti di tutti i tipi viene utilizzato in svariati campi la cosa che consiglio con un'ottica del genere è quella di provare provare, sperimentare trovare nuove soluzioni per poter riuscire a dare il massimo con un obiettivo del genere date spazio alla creatività perché più idee avrete più figo verrà il video che andrete ad effettuare proprio anche grazie a questa visuale grandangolare tocca gli 84.1 gradi di visuale quindi veramente ampissima il modello che ho in prova ha un attacco Canon quindi vi faccio vedere come funziona perché ho dovuto collegarlo con un adattatore in questo caso della Newer un adattatore elettronico che costa circa 80-90 euro Canon Sony Canon Sony anche per questo magari vi metto il link in descrizione quindi questo grandangolo si traduce con una maggiore profondità di campo a breve distanza con un ingrandimento massimo di 2 a 1 lo abbiamo principalmente utilizzato in studio ma è incredibile anche per scatti naturalistici il barilotto da 40 cm ci permette di entrare in posti veramente angusti strettissimi anche su colli di bottiglia situazioni impervie tra le candeline delle torte vi permette di entrare all'interno dei libri in modo che possiate visualizzare anche le pagine dei libri perché avendo un fuoco così vicino a 2 cm ci permette di fare della roba veramente incredibile mi verrebbe da dire inquadrature mai viste prima soprattutto rimanendo quasi invisibili agli occhi del soggetto che si sta filmando perché non saremo invasivi con la telecamera attaccati al soggetto anche se si tratta magari di animaletti di insetti di cose molto piccole riusciremo a essere meno invadenti meno invasivi nei loro confronti è un prodotto che secondo me anche nel reparto ristorazione può essere utilizzato molto molto bene con visuali talmente vicine talmente cariche di dettagli che permettono di dare il valore aggiunto all'azienda che magari vi sta chiedendo questo tipo di servizio perché vuole arrivare dentro al prodotto dentro al soggetto che dire io sono rimasto veramente soddisfatto di questo prodotto perché ho visto veramente la differenza e una qualità di immagine ma una qualità di contenuto completamente differente dalla classica solita immagine che siamo abituati a vedere penso di avervi detto tutto quello che volevo dirvi riguardo questo fantastico prodotto la OWA a me non resta che salutarvi ricordatevi di cliccare mi piace su questo video se vi è piaciuto magari commentate se pensate che possa esserci qualcos'altro di interessante da dire riguardante questo obiettivo e ricordatevi di iscrivervi al canale e ricordatevi di accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le nuove uscite su tutti i prossimi video a me non resta che salutarvi da questa sala di posa fantastica che ho avuto l'opportunità di utilizzare sia per i test sia per le riprese di cui vi parlavo prima non mi resta che salutarvi ci vediamo con il prossimo video ciao è stato dolorosissimo ho tirato una testata ho tirato una testata lì cazzo che male lì cazzo lì cazzo